Oh ci siamo ragazzi, ora ci sto uscendo, vado al bar, mi vado a fare un aperitivo e che vedevo di, che vedevo di, invece faccio un aperitivo al bar e perdo un po' di tempo quindi un bacio a tutte le donne, che cazzo vedevo di più, fammi appoggiare un po', mi sento già stanco, ancora vedevo di alzare, già mi sento stanco quindi che vedevo di, oh fate i bracioli, mettete i bracioli nel sugo se non mettete i bracioli nel sugo, mettete il sugo nel bracioli quindi qualcosa dovete fare, dai un bacio, sto scherzando, un bacio a tutta l'Italia che vedevo di, passate una buona domenica e spero che vi state tutti quanti a divertire, ragazzi e beh, spero che vi state tutti quanti a divertire, spero eh di qua c'è l'orecchino, di qua pure, di qua c'ho l'altro ben un bacio, ragazzi, au revoir grazie a tutti grazie a tutti